Il 22 settembre 2023 mi trovo a Via del Pioppo Comune di Avezzano, diciamo che sta ai piedi qua di Monte Salviano, la periferia sud-ovest della città di Avezzano. Qui c'era e qui c'è da ammirar Via del Faggio, ecco la costigliana, la lupo del Marzo, meglio su terreno, guarda questo percorso.